Carenze negli organici, ricorso massiccio e prepensionamenti, anche la magistratura contabile della Sardegna le prese con gli effetti negativi determinati dal decreto legge sulla stabilizzazione finanziaria entrato in vigore nel maggio dello scorso anno. Nell'isola il personale a disposizione di alcune sezioni è addirittura dimezzato. Il dato, allarmante, è emerso durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. I centri di spesa si moltiplicano, ha detto il presidente Mario Scano nella sua relazione, mentre si indeboliscono gli apparati giurisdizionali e di controllo. Nonostante le difficoltà, la magistratura contabile Sarda è riuscita a ridurre i procedimenti pendenti e a prendere in esame 1.413 vertenze. La situazione però rispetto al passato non è cambiata, anzi il procuratore generale Tommaso Cottone ha denunciato nella sua requisitoria l'illegalità diffusa nel settore della sanità, gli sprechi della pubblica amministrazione, l'erogazione di finanziamenti pubblici al settore produttivo che spesso si traducono in autentiche regalie, l'intreccio tra interessi pubblici e privati. Tra i casi segnalati quello della società per il turismo costituita nel 2004 dalla giunta regionale uscente, sciolta da quella entrante ma ancora in carica, al risultato un milione di euro di danno erariale. E ancora aziende sanitarie con apparecchiature sofisticate mai utilizzate che ricorrono a convenzioni esterne con privati. I casi insomma sono tanti. Nel 2010 la Corte ha avviato giudizi per circa 34 milioni di euro e riscontrato debiti fuori bilancio per 50 milioni di euro da parte degli enti locali. C'è però anche qualche segnale positivo. Il procuratore ha segnalato l'attività svolta dalla Capitaneria di Porto di Cagliari che ha delimitato le aree demaniali nel porto industriale in passato sottrate allo sviluppo dell'economia portuale.